Ciao bambini, sapete la novità? Peppa Pig arriva finalmente al cinema! Ups! Siete pronti per delle divertentissime avventure? Chissà cosa combineranno Peppa e la sua famiglia in vacanza. Venite a scoprirlo al cinema! Solo l'11, il 12, il 18 e il 19 gennaio. Bambini, sono Carolina, direi yo-yo! Vi aspetto al cinema con Peppa Pig! Ciao! Ciao!